Quest'oggi è un grande video, perché quest'oggi parleremo di One Piece, come potete vedere anche dal cappello di Chopper. Non ho voluto mettere quello di Rufy perché sembravo Sampei, quindi ho deciso di ripiegare in quello di Chopper. E voi direte, che novità c'è? Parla di continuo, di One Piece? Sì, ma oggi è un giorno particolare, il video di oggi è un po' particolare, perché riguarda infatti il ventennale della saga, che era due giorni fa ufficialmente, però il video lo facciamo uscire oggi, ma teniamolo tra noi. Infatti il 19 luglio del 1997 uscì il primo capitolo di One Piece, ovvero Romance Down. Peraltro, piccola nota, sempre il 19 luglio del 1997 uscì nelle sale cinematografiche giapponesi The End of Evangelion. Quindi sì, ufficialmente per me il 19 luglio è un secondo Natale. Quindi dopo il ventennale di Evangelion due anni fa, il ventennale dei Pokémon l'anno scorso, quest'anno siamo nel ventennale di One Piece. Ah, che periodo magico era la fine degli anni 90. Chissà quale saga compirà vent'anni l'anno prossimo. Comunque, come tratterò questo video? Vorrei farlo il più breve possibile, perché se già era difficile rimanere in certe tempistiche con saghe come Evangelion, o come Pokémon, con One Piece, se cercassi di fare tutto e di trattare tutto, veramente, sarebbe praticamente impossibile rimanere al di sotto della mezz'ora. Quindi taglierò tantissimo ed eviterò commenti dettagliati. Ma farò comunque un piccolo riassunto su come mi sono avvicinato alla sanga, su come ho conosciuto One Piece, e poi sì, un commento, ma rimanendo comunque molto generale, e anche perché no, uno sguardo al futuro. Sì, insomma, un po' come gli altri video sui ventennali che ho fatto. Ma come il piccolo Lord Otaku conobbe One Piece? Ovviamente come tutti, ovvero, grazie a Italia 1 e i suoi adattamenti beceri. E sì, ai tempi lo guardavo, sì, mi piaceva molto, ma non lo seguivo con particolare trasporto. Cioè, una volta finito l'episodio, per me finiva tutto lì. Ma la magia avvenne molti anni dopo, quando vidi gli episodi di quella che sarebbe poi diventata la mia saga preferita, e che secondo me racchiude tutta l'anima di One Piece. È veramente la quintessenza di tutto ciò che è One Piece, ancora oggi. Ovvero la saga di Water 7 e Ennis Lobby. Veramente, quello fu amore. A parte che ovviamente lo guardavo con occhi un po' più maturi, essendo passati un po' di anni. Poi comunque i disegni erano migliorati tantissimo. Era proprio, si vede la maturità di One Piece in questa saga. Dai disegni, appunto, che erano migliorati, dai primi che erano un po' nei primi episodi molto cartoon come stile, a questi un po' più impegnati. Nemici fighissimi e combattimenti ancora più fighi. Ricordo, tra tutti i lucci e la battaglia contro di lui, tuttora veramente uno dei miei cattivi di One Piece preferiti, se non il cattivo preferito di One Piece. Storie bellissime come il passato di Nico Robin, che tuttora è uno dei punti più alti di One Piece, e mi sbilancio anche della storia dei manga, perché veramente quella è una signora storia. E da lì, da questa saga, è nata la mia passione per questo manga. Mi sono fiondato in fumetteria a comprarlo, e il resto è storia. Sono arrivati prima i capitoli settimanali, poi l'anime giapponese sottotitolato, perché fin da subito mi faceva venire da vomitare, non riuscivo più a sopportare porcherie come Rubber e compagnia cantante. E al giorno d'oggi è diventato uno dei miei manga preferiti. Ma perché? Che cosa ti ha convinto ad elevarlo così tanto? È difficile. È difficile da spiegare, soprattutto a chi non ha mai visto One Piece. Perché a uno che non ha mai visto One Piece, e lui ti chiede perché lo guardi, tu ti puoi limitare solo a dire che è bello, perché se iniziassi a spiegare i momenti veramente belli, finisci nello spoiler. Però, e quindi cercherò di fare del mio meglio, One Piece va visto e letto per i momenti One Piece. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire tutto e vuol dire niente. Perché appunto One Piece ha dei momenti che ha solo lui, che non ha nessun altro manga. Momenti, appunto come gli ho chiamati i momenti alla One Piece, quei momenti che ti emozionano e ti fanno venire la pelle d'oca. Solo una statua veramente può rimanere impassibile di fronte a queste cose. Appunto il già citato passato di Nico Robin, quando poi lei dichiara di voler vivere per Rufy e Sogeking. Sogeking brucia la bandiera della marina dichiarando guerra. Quello lì è un momento bellissimo. Quando nella saga di Arlong, Rufy dà il cappello a Nami, la morte di Ace, la battaglia di Marineford, bellissimo il momento della morte di Barba Bianca, quando c'è l'elenco di tutte le ferite, e poi alla fine ma nessuna di Ace è sulla schiena, perché non è mai voltato le spalle al nemico. Cioè veramente va visto e letto per questi momenti. Che solo One Piece ha. E poi comunque lo ritengo un manga universale. È un manga che ha il potenziale per piacere a tutti. Perché è un ottimo shonen, ottimi combattimenti, bei disegni, personaggi tutti caratterizzati dal primo all'ultimo, e tutti con una loro storia. Veramente dal personaggio più seconderziario, quindi meno considerato, comunque ha una sua storia. Ovviamente più superficiale rispetto ad altri. Però comunque puoi trovare una complessità di storie che si intrecciano tra loro, è una trama veramente enorme. Che tuttora ha ancora dei segreti da svelare, nonostante siano passati vent'anni, e quindi mille mila teorie sul futuro. È divertente, è un manga molto divertente, ma comunque non va a togliere momenti di riflessione, momenti epici, appunto i vari combattimenti, come il già citato combattimento contro Lucci. Tratta tematiche molto importanti e molto serie, come la solitudine, come il razzismo. Quindi veramente lo ritengo un manga universale. Quindi questo è un altro motivo per cui leggerlo. E poi la trama. La trama veramente è un qualcosa di enorme, che veramente difficilmente può non piacere. E poi la trama. La trama è un qualcosa di enorme, di elaborato veramente nei minimi dettagli. E poi soprattutto una cosa che non vediamo spesso nei manga, in alcuni anche in grandi titoli, ovvero una coerenza in Oda. Cioè lui, anche leggendo i capitoli di adesso, che sono 800, quasi 900, 20 anni, comunque vedi una coerenza in quello che Oda aveva 20 anni fa. Ovviamente ci sono stati dei cambiamenti, però comunque si può notare una coerenza. Cioè lui 20 anni fa ha iniziato un percorso e lo porterà a termine senza deviazioni. E poi una trama studiata talmente bene, che Oda può permettersi di fare quello che vuole. Cioè può mettere giganti, uomini pesce, animali parlanti, poteri di tutti i generi, che comunque ci stanno. Perché è il mondo di One Piece. Cioè lui ha creato un mondo, ha creato un universo. E noi guardiamo e lo accettiamo. Quindi veramente è stato creato da Oda il mondo One Piece. Che non è una cosa appunto così scontata, da creare un universo così profondo e così enorme. Cosa ci aspetta nel futuro? Ancora tanti anni. Oda ha dichiarato che il manga prima o poi finirà. Mi sbilancio e faccio una previsione. Secondo me quasi dieci anni ancora ce li abbiamo. Forse riusciamo a sfiorare se non a raggiungere il trentesimo anniversario. Perché ha tantissimo da dire ancora a One Piece. Ha tantissimi misteri da svelare. La saga attualmente in corso comunque deve ancora finire. Quella di Wall Cake Island. Secondo me ce ne sono in previsione tre o quattro. Ci sarà la saga contro Kaido e probabilmente Wano Kuni saranno assieme. Ci sarà poi comunque una saga, la saga finale. Se non sbaglio c'è una saga dedicata ai rivoluzionari. Una saga a Riviera. Ora non mi ricordo come si chiama comunque. Quella riunione di stati che già è stata accennata quando abbiamo visto Vivi partire. Insomma ancora tre o quattro saghe ce l'abbiamo sulle spalle. Quello però che è certo è che ho la notizia qui notizia appunto di oggi fresca fresca quindi forse ho fatto bene a aspettare a far uscire questo video confermato da Oda che quindi quindi notizia ufficiale mi viene difficile dirlo mi viene un po' di schifo anche leggerlo mi viene veramente difficile a quanto pare uscirà una serie televisiva appunto di One Piece americana quindi questo Marty Aldestine Al Adelstein e lo studio di Prison Break proprio come dice la notizia si occuperà della serie televisiva live action americana di One Piece ora sapete cosa ne penso dei live action americani vi invito a vedere il video di Netflix sulle Death Note di Netflix che ho fatto quindi se non lo sapete andate a vedere quello riassunto sono contrario ai live action in generale perché non puoi ed è molto difficile un qualcosa di animato e disegnato portarlo nella realtà figuriamoci veramente ancora ancora un Forza in Death Note ma veramente un One Piece è molto molto difficile quindi le premesse sono veramente bassissime sono tra le più sbagliate poi ancora di più se sono americane perché secondo me i giapponesi quantomeno un po' ci provano vedremo sicuramente quando uscirà un teaser uscirà anche un mio video dove mi incazzerò come una iena spero di essere smentito ovviamente però è un live action americano di One Piece peraltro quindi cioè o fanno veramente un qualcosa di tutto al computer o mi viene mi sta patendo il cuore quindi questo è il mio omaggio a One Piece una saga che veramente trovo difficile provare dell'odio veramente concepire che delle persone che a delle persone non piace essendo come ho detto così universale ci sono ma non ho mai visto commenti seri cioè ho letto commenti di persone che dicevano che non gli piaceva One Piece ma mai delle motivazioni seri ho letto probabilmente tantissime persone odiano One Piece perché essendo appunto il manga più venduto e comunque possiamo considerarlo anche il manga più famoso al giorno d'oggi piace fare gli alternativi su internet e lo sappiamo tutti un po' come Shinjeki no Kyojin che c'è gente che l'attacco dei giganti c'è gente che lo snobba e si perde comunque un grandissimo anime e un grandissimo manga secondo me comunque questo è un altro discorso detto questo noi ci vediamo a breve sempre con One Piece perché non mi sono dimenticato dei capitoli settimanali quindi altri vendi di questi anni oddio stavo per dirla speriamo di no di non arrivare a 40 anni di manga spero a quanto me spero di sopravvivere abbastanza a lungo e da leggere il finale mettiamola così quindi sì spero che duri ancora un po' ciccio cerchiamo di stare in tempi stringati noi ci vediamo al prossimo video